Rossini TV riaccende le telecamere su Galleria Roma a pochi giorni di distanza dalla aggressione, con colluttazione e con accoltellamento che è avvenuto nello scorso weekend, proprio in questo luogo del centro storico, un luogo che è reputato all'abbandono da diverse persone che lavorano qui, commercianti, gente che frequenta gli uffici, all'abbandono per due ragioni, quella in termini di sicurezza, c'è una problematica di bivacchi, di situazioni poco lecite che continuano a gravitare attorno a questa zona, c'è anche un problema strutturale di questo luogo del centro con una struttura vecchia, malandata e sulla quale lo stesso Comune di Pesaro aveva pensato da anni ad una riqualificazione, tema che è tornato attuale negli ultimi mesi, anche perché un arredo urbano meno degradato può anche essere un deterrente alle situazioni in termini di sicurezza, riqualificazione di Galleria Roma che però è ancora lontana dal concretizzarsi per diverse difficoltà che ci vengono elencate dall'assessore all'operatività Enzo Belloni in questa intervista. Galleria Roma è un impegno che l'amministrazione si è presa, le complicazioni però non sono pochissime rispetto a quello che era l'idea progettuale nostra. L'idea nostra progettuale era quella di realizzare un fondo, una pavimentazione in linea con gli interventi che sono stati fatti nelle altre parti del centro, via San Francesco per capirci, però dagli ultimi incontri che abbiamo avuto con i tecnici che hanno seguito il condominio, i lavori del condominio, l'analisi rispetto alla pavimentazione è un'analisi un pochino complessa, nel senso che l'intercapedine che c'è tra la piazza e i garage sotto, quindi la soletta si chiama, ha uno spessore che deve essere valutato prima di caricarla in maniera eccessiva, perché la pavimentazione ha un dislivello di 6 cm di inclinazione verso il centro della galleria, quindi va fatta un'analisi strutturale seria e capire se una volta valutati i costi di una messa in sicurezza dei garage, quindi della parte sotterranea rispetto alla pavimentazione della galleria, ci consentirà di fare l'intervento che avevamo pensato, oppure bisognerà progettare qualcosa di più simile, più leggero a quella che è la pavimentazione attuale. Stiamo aspettando un'analisi un pochino più dettagliata di quelli che saranno i costi di un eventuale intervento che dovremmo sviluppare con il bilancio 2022.